L'appello del 19 marzo, lanciato dalla Protezione Civile che invita i cittadini a non abbandonare gli animali, è stato accolto anche dalla Liguria, dove per fortuna ad oggi non si registrano incrementi nell'inqualificabile fenomeno dell'abbandono di animali, che peraltro costituisce un reato penale. Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia quali cani e gatti possano diffondere il nuovo coronavirus, chiarisce Roberto Moschi, responsabile del servizio di veterinari di Elisa. Per prudenza si raccomanda comunque di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche anche dopo il contatto con i nostri animali. Chiunque sia impossibilitato durante l'emergenza Covid-19 a mantenere il proprio animale domestico e a rispettarne il benessere attraverso le cure e l'alimentazione e che non sia in condizione, per comprovate necessità, di rispondere ai suoi bisogni, ad esempio in caso di improvviso ricovero in ospedale per malattia Covid-19, può attivare i servizi veterinari pubblici delle ASL, che interverranno affinché agli animali sia garantito un adeguato ricovero, seppur temporaneo, fino alla restituzione al proprietario. Il Comune di Pertinenza, in collaborazione con i servizi veterinari competenti per territorio, provvederanno al ricovero, alla custodia e all'affido temporaneo, per i cani presso i canili comunali, per gli altri animali in strutture adeguate.